Grazie, grazie, ragazzi già è difficile parlare davanti a tanta gente, poi un saluto a due categorie di persone un po' diverse, una alle persone che ci stanno ascoltando su Radio Padagna Libera che per diversi motivi non sono qua ma fate sentire il calore di una piazza piena che magari le televisioni non faranno vedere che però è piena e due ai democratici, pacifisti e non violenti che hanno provato ad aggredire questo porteo che sono la dimostrazione di come il cervello umano in alcuni casi si sviluppi, in alcuni casi si sviluppi molto poco e quindi il loro concetto di democrazia è un concetto molto bizzarro, quando sono passato là davanti a due persone anche di una certa età che avevano la bandiera con scritto non violenti e dicevano cose che neanche in curva su da San Siro si sentono che si ripassino il concetto gandiano di non violenza e poi si rifacciano vedere fra una decina d'anni che magari gli serve. Detto questo non ripeto quello che di giusto è già stato detto, mi permetto di fare due o tre passaggi oltre. Uno, che cosa si può fare per evitare queste stragi? Un giornalista mi ha chiesto in corteo ma non è inopportuna questa manifestazione? Secondo me è quanto mai opportuna perché ci sono due modi per fare politica, una aspettare che le cose succedano fare un minuto di silenzio, andare a Lampedusa a piangere, fare i funerali di Stato e poi fottersene in attesa della prossima strage. L'altra è di provare a fare qualcosa, lo dico da parlamentare europeo, questa Europa che viene a dire a noi che ci dobbiamo vergognare è la più grossa truffa degli ultimi cinquant'anni. Invece là c'è un cartello, scappano dall'Africa perché hanno fame. Questa Europa ha dato 130 miliardi di euro alla Grecia, pardon non ai cittadini greci, questa Europa cioè voi ha dato 130 miliardi di euro alle banche tedesche e francesi che erano in credito con la Grecia, invece di regalarli ai banchieri francesi e tedeschi, cancellate il debito dei paesi poveri in Africa che magari quella gente non scappa più e non prende il barcone per arrivare a casa nostra, invece di regalare 5 miliardi di euro alla Turchia, alla Turchia per farla entrare in Europa che Dio ce ne scampi, quei 5 miliardi di euro all'Eritrea avrebbero fatto sicuramente meglio. Quindi Barroso, Varrompui, Lamalstrom, Schulz, questa Europa è una schifezza e prima ribaltiamo questa Europa, meglio è per noi e per gli africani che sono sfruttati da questa gentaglia e io non ho sentito uno di sinistra, uno di sinistra parlare di cancellazione del debito dei paesi poveri e siamo noi che siamo cattivi. Due, per adottare un bambino in Africa occorrono almeno tre anni e almeno 30 mila euro. Io penso e spero che i gruppi parlamentari della Lega Nord alla Camera e al Senato, mentre gli altri chiacchiarano e vanno a lacrimare da coccodrilli, presentino le proposte in legge per rendere più veloce e meno costoso l'adozione di quelle migliaia di bambini che vivono nel Luna in Africa e che molte coppie in Lombardia, in Piemonte e in Veneto asperterebbero solo di adottare. Qual è il problema? Che c'è gente che ci specula sulla vita, su quelle adozioni, ci sono associazioni di volontariato che ci campano, ci sono case e famiglia che fanno i milioni di euro con i bambini che non hanno padre e non hanno madre. Permettiamo alla nostra gente di adottarli senza spendere un patrimonio, sperando che poi questi bambini possano continuare ad avere un papà e una mamma, non un genitore 1 e un genitore 2, che vanno bene in Congo ma non a Torino, in Congo ci sono i genitori 1 e 31, in Italia in Padania ci sono le mamme e i papà. Se vi va bene così altrimenti tornate con la barchetta nel vostro paese, anche se siete ministri e anche se siete laureati. Quindi due proposte concrete sul debito e sulle adozioni. Dicono che siamo cattivi. La regione Lombardia è così cattiva che ha trovato nei primi mesi 2 milioni di euro per le mamme e i papà separati o divorziati e aiuteremo 800 papà e 800 mamme che dopo la separazione o il divorzio non ce la fanno a tirare a fine mese e magari non hanno i soldi per comprare il grembiule al bimbo che va a scuola, però siccome siamo buoni ma non coglioni abbiamo messo la postilla che questi soldi vanno a chi presidente in regione Lombardia da almeno 5 anni. Prima la nostra gente, poi se ne avanza e quando ne avanza tutti gli altri. E siamo così cattivi che abbiamo trovato 10 milioni di euro per i ragazzi disabili che non potevano raggiungere la scuola perché nessuno aveva i soldi per pagargli il trasporto. Noi che siamo cattivi, egoisti, razzisti e violenti, come prima regione abbiamo trovato questi 10 milioni di euro perché fa più chic probabilmente per i giovanotti, per i Ligabue, per i Dario Fo, per i Verdone, i Fassino, i Pisapia e le Camusso pensare ai poveri dall'altra parte del mondo. A questa gente forse fanno schifo i poveri di casa nostra ma noi siamo pagati per aiutare prima i poveri di casa nostra e poi se ne avanza i poveri di tutto il resto del mondo e quindi prima i disabili di casa nostra, prima i separati di casa nostra e poi se ne avanza tutti gli altri. Le ultime due riflessioni da giornalista stanno provando a farci il lavaggio del cervello e ci stanno provando con le parole, la parola a volte usata come un'arma e fa male più di un'arma. Avete notato che nell'ultimo anno nessun telegiornale, nessun giornale parla più di clandestini, sono migranti, non sono più clandestini perché era una parola brutta, sono migranti, sono profughi, sono fratelli, sono sorelle, siamo tutti cittadini del mondo, tutti nasciamo e tutti moriamo, però la Treccani dice che è clandestino è colui che entra a casa mia senza il diritto di farlo e quindi dobbiamo combattere anche contro questo razzismo delle parole. Quando ci intervistano, parliamo di quello che la lingua italiana ci impone di parlare, non sono migranti, sono clandestini, punto, non sono migranti, sono clandestini e la discriminazione, l'altra parola magica è discriminazione, l'omofobia, io non capisco perché se uno prende a martellate un oterosessuale viene condannato a una certa pena, se uno prende a martellate un omosessuale la pena viene aumentata, è una martellata che fa male a tutti, uno deve finire in galera per qualche anno a prescindere se prende a martellate uno con i gusti sessuali X o Y e poi hanno inventato la discriminazione territoriale, cioè abbiamo un Parlamento di buffoni e abbiamo anche delle istituzioni sportive che se la prendono coi tifosi e liberano i mafiosi, siamo veramente un paese di rimbambiti, quindi viva i campanili, viva le identità, viva l'orgoglio, viva le città, viva le tradizioni, viva le storie, chiudo con una riflessione, da papà, non da politico, mi sono rotto le palle, non so voi, io da papà di una bimba di nove mesi che ho la fortuna di prendere in braccio la mattina e la sera e da leghista mi sono rotto le palle di sentirmi il cattivo della situazione. Io penso che qua ci sia gente che chiede il rispetto delle regole, la Lega crede nelle diversità, la Lega vuole serenità e il partito dell'amore non alla berlusconiana intesa ma il partito dell'amore nel senso che noi chiediamo solo di poter stare tranquilli a casa nostra a prescindere, lo dico dal cuore, dal colore della pelle, se uno nel 2013 discrimina in base al colore della pelle è un cretino, il problema non è il colore della pelle, il problema non sono i gusti sessuali, il problema è il rispetto delle regole e da papà vedere decine di bare di bambini nel porto di Lampedusa, delle bare lunghe 50 centimetri, coi peluche, mi fa rabbrividire, mi fa piangere, mi fa incazzare, però ho il dovere di evitare che si ripetano queste stragi e se per farlo devo alzare la voce io alzo orgogliosamente la voce, sicuro e convinto che la maggior parte della gente stia con noi, però non ci vengano a insegnare bontà, il Nord dà lezioni di volontariato non al resto d'Italia ma al resto del mondo, però bontà non significa lavarsi la coscienza, bontà significa dire quello che bisogna dire e fare quello che bisogna fare, secondo me i cattivi, i veri cattivi, quelli senza vergogna, quelli senza coscienza, quelli senza scrupoli, quelli che speculano sulle tragedie sono le Boldrini, sono le Chienge, sono i Grillini, sono i Presidenti della Repubblica, non mio ma di qualcun altro, questi sono i veri cattini, oggi in Piazza Torino c'è brava gente, c'è gente per bene, ci sono mamme, ci sono papà, ci sono nonni, vogliamo stare tranquilli. Chiudo con un invito, oggi stanno sfilando a Roma dei reduci da Museo della Scienza e della Tecnica che dicono non tocchiamo la Costituzione e a Bari sta parlando il più vecchio dei nuovi che è Renzi che quando parla io non capisco che cosa dica ed entrambi dicono non si tocca la Costituzione, io spero che Roberto Maroni, Giancarlo Giorgetti, Umberto Bossi, la Costituzione tocchiamola e vi faccio una proposta, la faccio alla sinistra, la faccio alla sinistra, rimettiamo in Costituzione l'articolo 3 che propose l'onorevole Dossetti nel 1946 della sinistra democristiana, quindi non uno sporco leghista, ritocchiamo la Costituzione e sfidiamo i grillini, i chiacchieroni, il PD, il PDL, SEL, prendiamo tale quale l'articolo 3 che nella Costituente del 1946 l'onorevole Dossetti propose e che poi fu stralciato, perché fu stralciato dai compagni e dai democristiani? Perché voleva mettere in Costituzione un concetto rivoluzionario, il diritto di resistenza, sono due righe, andatevele a cercare su internet, due righe in cui si diceva che i cittadini di fronte a delle leggi che violino i principi sanciti dalla Costituzione hanno il diritto e il dovere di resistere, però sia alla sinistra che ai democristiani il popolo faceva paura, si riempiono la bocca della parola popolo ma poi non lo vogliono mandare a votare perché magari il popolo quando vota gli dà torto e vota in base alla sua coscienza e non in base a quello che i sindacati o i parroci politicizzati gli vanno a dire. Rimettiamo in Costituzione il diritto, dovere di resistenza agli atti che vanno contro la Costituzione? E il primo articolo dice che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, se ci fosse stato l'articolo 3 in Costituzione una signora come la signora Fornero e una porcata come la legge Fornero avrebbero comportato da parte nostra il diritto, dovere di resistere, con le buone o con le cattive. Se stiamo insieme non ci ferma nessuno, viva la Lega, viva Torino e viva le persone per bene e viva le persone buone ma non coglione. Grazie a tutti, viva Maroni e viva Bossi che è sempre bello avere sul palco vicini. Grazie fratelli.